Siamo stati un po' all'inseguimento dell'accavellamento dei DPCM, arrivavamo pronti per un DPCM e subito dopo ne arrivava un altro e dovevamo cambiare l'assetto. Trasporto pubblico a Fisarmonica, il Covid porta anche a questo dal 100%, si è passati con l'inizio della scuola con pullman autobus con capienza all'80%. Il turbolento inizio dell'anno scolastico ha però portato ad uscite anticipate, gli orari dei pullman sono saltati, attese prolungate, studenti ammassati dentro e fuori dei pullman, ha fatto arrabbiare i genitori ed intanto il virus piano piano dilagava. SVT, aziende di trasporto pubblico Vicentina, si è attrezzata ed ha fatto accordi con i privati dei pullman turistici prima ancora che un decreto del governo lo prevedesse. Il tempo che il piano andasse a norma, che la seconda ondata del Covid è esplosa e un nuovo DPCM ha tagliato ancora la capienza dei mezzi pubblici, abbassandola al 50%. Soldi e contratti spesi, SVT, vista l'incertezza della situazione, si è tutelata. Nei contratti che abbiamo stipulato con i terzisti che fanno il servizio per noi abbiamo messo una clausola che qualora il servizio venisse meno per l'adozione di provvedimenti che possono interessare il servizio stesso si può tranquillamente risolvere il rapporto senza danno per le parti. Insomma tutto in stand by perché SVT è pronta qualora cambiasse la situazione a riprendere tutto come prima. Come ci ritiriamo dal servizio? Probabilmente ritorneremo al servizio con qualche giorno ovviamente di Lasco, però torneremo a allestire un servizio di livello in funzione del decreto che verrà emesso.